Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Divieto totale su tutto il territorio da oggi, 10 ottobre fino alla fine di dicembre, di bruciatura di materiali di qualsivoglia tipologia e natura, con esclusione degli impianti di riscaldamento, di materiale vegetale e loro residui o qualsivoglia materiale connesso alle attività agricole, nei terreni anche se incolti, negli orti, nei giardini, parchi pubblici e privati. Riassumendo il tutto, è un divieto assoluto di abbruciature. L'ordine arriva direttamente dal sindaco Ciampi, che ha allertato il corpo di polizia locale per effettuare un controllo serrato in questa direzione su tutto il territorio. L'inosservanza della disposizione emanata da Piazza del Popolo sarà punita mediante sanzioni amministrative da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Una disposizione resa necessaria, alla luce delle evidenze emerse sui dati dell'inquinamento, che continuano nonostante giornate ecologiche e blocchi della circolazione ad essere non conformi alle disposizioni dettate dall'Unione Europea. Gli indicatori relativi alle PM10, alle PM25 e al biossido d'azoto sono troppo elevati. Troppi gli sforamenti, circa 27 al 1 di ottobre, registrati dalla centralina ARPAC posta via Piave, che ha evidenziato particolari criticità proprio sulle polveri sottili a fronte di 35 sforamenti consentiti in un anno solare. Di questo passo Avellino avrebbe raggiunto il limite velocemente, con danni all'ambiente, alla salute e non ultimo alle casse del Comune, che avrebbe dovuto pagare una multa all'Unione Europea.